Il viaggio attraverso le terre e oscili della mortica, alla risperta del bello d'oro. Nell'epica classica il tema del viaggio è centrale, anche nella sua variante di notte, cioè di ritorno nel padre. Dopo la fine della guerra di Troia, finalmente Ulisse prende il mare con destinazione Isra. Si indiegherà 10 anni per rivedere la sua casa. Le sue felicezie diventeranno la più grande narrazione di viaggio. Il viaggio attraverso le cose, per andare a cercare lavoro, per sentirti liberi, ma soprattutto per conoscere, e anche quando si viaggia per caso, per sentire alla noia, all'orrore del domicilio, come lo chiamava Bollet,